Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui dove andremo a parlare di PixelCoin Ma prima di tutto ciò come sempre mi invito a iscrivervi al canale E di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere Allora io premetto che questa moneta non la so e l'andrò ad analizzare ora in questo preciso istante Ma l'avete veramente consigliata in moltissimi Dove sotto ogni mio video praticamente mi veniva scritto Perché non fare la recensione su PixelCoin ed eccola qui Ora la faremo Quindi ragazzi se avete ulteriori richieste per quanto riguarda le monete da analizzare Lasciate un commento sotto questo video Allora diciamo che la capitalizzazione di mercato è di 2 milioni e 5 Dunque quanto riguarda la supply qui ovviamente è di un miliardo Però non lo so perché praticamente di solito in queste monete non viene mai aggiornato con precisione Il volume delle ultime 24 ore è di 6 mila dollari Quindi diciamo che ancora è un pochettino bassa Anche se non so se è perfettamente tra capisco se sia una shitcoin oppure una moneta veramente utile Andiamo a leggere prima cosa qui Pixel fonde il mondo della pubblicità con il metaverso Nella vera mola del web 3.0 È un modo nuovo per gli inserzionisti di raggiungere un pubblico nuovo e coinvolgerlo Oggi lo spazio frettografico è manipolato e non dato da una vasta gamma di progetti diversi Molti dei quali sono disonesti Attraverso la comunità di Pixel e la dedizione ai valori di trasparenza, onestà e integrità Questo è uno spazio in cui gli investitori possono interagire con progetti verificati e affidabili E in cui tali progetti possono dimostrare e pubblicizzare il loro vero valore Allora da quello che ho capito questa moneta è diciamo un tramite tra il mondo della pubblicità e il metaverso Diciamo che ci può stare Allora se il mondo del metaverso va ad esplodere perché già sta succedendo parliamoci chiaro Se va ancora di più a esplodere ovviamente questa moneta a sua volta crescerà di valore Se non sbaglio in questi giorni sono capitato in un post, non mi ricordo quale, su Instagram Dove veramente nel metaverso puoi mettere degli annunci, ti puoi addirittura sposare Ed è quella la cosa bella Ci sono certe persone, se non sbaglio c'è stata la prima coppia che si è sposata sul metaverso Quindi pensate un po' dove stiamo andando a finire Quindi diciamo che questo è il futuro Andiamo qui nella pagina, il futuro del marketing Quindi diciamo è una specie di marketing, una criptovaluta del marketing Per quanto riguarda la realtà e la pubblicità nel metaverso Quindi da questo diciamo che ci porrebbe anche stare Marketing, ogni transazione aggiunge fondi al nostro portafoglio L'1% per gli acquisti e il 6% per le vendite Quindi ottimo, anche questa moneta fa diciamo come fanno certe altre Non mi ricordo quale è preciso, se non sbaglio SafeMoon Dove invogliano le persone a far tenere le proprie monete E quindi visto che c'è diciamo questo bonus Se le persone vanno a vendere le loro monete Giustamente per chi possiede quella determinata moneta da tanto tempo Ovviamente va a guadagnare una piccola percentuale Quindi è diciamo un'ottima cosa per invogliare le persone a tenere PixelCoin Poi c'è la ricompensa statica Il 2% di ogni transazione viene ridistribuito ai titolari Ottimo E il 5% distribuito al portafoglio di riacquisto utilizzato per la liquidità Quindi il progetto diciamo che è veramente serio Il fatto che ancora, vabbè, la valutazione è quella che è Il mondo del metaverso non è ancora entrato nel Non è ancora recepito bene da certe persone Quindi secondo me appena verrà capito bene il metaverso Questa moneta esploderà 100-100 PixelFond è il mondo della pubblicità con il metaverso Nella vera moda il 3.0 È un modo nuovo per gli inserzionisti di raggiungere un pubblico nuovo Questo qui praticamente è la stessa cosa che ha scritto Direttamente su CoinMarketCap Andiamo qui in grafico Vediamo com'è Ok Quindi c'è anche il proprio wallet Qui potete andare ad acquistare le vostre monete Direttamente da qui, da quello che ho capito Eccolo qui Si, Connect Wallet E qui potete andare ad acquistare le vostre monete in maniera tranquilla Quindi c'è anche questa sezione Veramente ottima Qui esce scritto il token del prezzo Quanto viene, diciamo, valutato Quanto vanno a spendere le persone Tipo questa persona qui, se non sbaglio Non voglio dire una cavolata Ma ha prelevato 10.994 dollari Andiamo qui, blog Qui nel blog ovviamente ci sono i vari articoli Inerenti a PixelCoin Vabbè ma questi qua diciamo sono più basic Ad esempio le fate una volta e non vengono più fatte Infatti tutte diciamo sono fatti un po' di tempo Farrande questa che è uscita 20 giorni fa Ma comunque diciamo non c'entra nulla con la moneta in sé Poi c'è la moneta della settimana E qui c'è anche la classifica Non so in quale senso c'è la moneta della settimana Per quanto riguarda PixelCoin Non voglio, non so più che altro Capire il senso, in che senso la moneta della settimana Forse per chi va a comprare Convertire monete a PixelCoin o più dicendo Non saprei proprio Qui c'è Ethereum 2 Andiamo qua in questa sezione Addirittura il gioco Madonna mia Guardate che cosa c'è all'interno di questo sito Madonna mia Però qui non siamo benvenuti per giocare Questo è il team Alan che è il copywriter Cole, Daniel, Mischa, Lars, Decano, Oskan, Roland, Tiff, Wilking e Vincent Quindi ovviamente qui ci sono pure i vari social Dove potete andare a vedere se sono reali o meno Qui c'è acquista Pixel Vabbè questo qui diciamo è la sezione Sempre di Pancakes, Wop Sì Praticamente potete andare ad acquistare Anche qui più che altro Le monete di PixelCoin Quindi ulteriore cosa Andiamo qua C'è pure il merchandise di PixelCoin 14 stelline per la maglia di PixelCoin C'è proprio il progetto Ovviamente potranno anche monetizzare i fondatori di PixelCoin Ulteriormente tralasciando il mondo della valuta E qui c'è anche il merchandise Qui felpe, canottiere, tazze Veramente di tutto Incredibile Allora Secondo i miei pensieri Questa moneta ci può anche stare Perché giustamente Va a toccare qualcosa Che non ha mai toccato nessun altro Perché Se vado a pensare più che altro La pubblicità nel metaverso Non mi viene nulla Quindi diciamo che Questo settore Non è ancora stato toccato Quindi secondo me PixelCoin può fare il suo Onestamente Previsioni a lungo termine Non ne voglio fare Perché giustamente non so Che Come andrà a finire Il tutto Quindi secondo me Voto da 1 a 10 PixelCoin 8 Vediamoci chiaro 8 La capitalizzazione di mercato è ancora bassa Quindi si può tranquillamente andare ad acquistare Magari Questa è una moneta che può fare 100 per Quindi Secondo me Questa moneta è ottima Ed è assolutamente da acquistare Io termino questo video E L'andrò a acquistare direttamente Grazie Sotto nei commenti Per chi me l'ha fatta notare Veramente Non ero a conoscenza di questa moneta Ottimo Ok ragazzi Per questo video è tutto Se questo video vi è piaciuto Vi invito Come sempre A iscrivervi al canale E di attivare la campanellina E le notifiche Per non perdervi ulteriori contenuti del genere Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao